Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico al momento scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A12 fare attenzione per vento forte segnalato tra Carrara e Colle Salvetti. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in pruneta. Sempre per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia è chiuso per lavori lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione Livorno. I treni per un problema o un convoglio nei pressi di Figline Valdarno e regionali nella tratta Firenze-Arezzo potranno subire ritardi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!